Allora siamo Marco alla Brinca di Nè e qui dico c'è una sorpresa che riguarda la nostra guida di quest'anno il golosario di Ristoranti 2023. Chi è che vuole tirare il nastro? Tira il nastro. Proprio così, attenzione, stiamo rivelando qualcosa di importante, volevamo farlo con tutti i clienti ma il doccale è sempre così, ma non è per lavorare sempre troppo. La Brinca, Simone, Matteo, la colonna radiosa rossa quest'anno va unica su 3.800 locali a la Brinca. Lo scelto, lo scelto, lo scelto, lo scelto, lo scelto, lo scelto. Un applauso. quindi sulla vostra guida dovete avere la corona rossa un locale solo perché? perché rappresentate tanto rappresentate la tradizione rappresentate un'ottima cucina ma soprattutto rappresentate la colleganza perché è quello che avete sviluppato da questo posto eroico anche in termini di sviluppo dell'agricoltura della vita della cultura io ricordo qui i momenti con Giovanni Rebola che abbiamo messo di sé i momenti con Bissom i contari che sono una storia di colleganza straordinaria e quindi noi vogliamo raccontarlo a tutta Italia perché questa è Marco l'autentica cucina italiana prego Marco applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti